Ora spegniamo un po' di incendio, facciamo un po' di bonifica prima che si allarga sul verde e inizia ad incendiarci anche quest'altro lato di montagna che ieri non è stato colpito. Bruciava ancora questa mattina il monte di Trivio a Castel San Giorgio, colpito ieri da un devastante rogo che ha tenuto impegnati per ore e mezza antincendio. Le fiamme hanno destato preoccupazione poiché scaturite nelle vicinanze di alcune abitazioni e attività commerciali. Sul posto questa mattina era presente un autobotte della protezione civile e i carabinieri della forestale insieme alla polizia municipale. Proprio in questo momento il gruppo comunale sta facendo un primo intervento per spegnere questo inizio di incendio. Purtroppo l'aria è vasta, sono 38 ettere di terreno che ieri sono stati distrutti. Non è possibile fare una statistica ma diciamo che il fatto è colposo sicuramente, è da verificare. È difficile anche tenere tutto il territorio sott'occhio, infatti è un fenomeno quello degli incendi che ultimamente si è acuito. Stiamo facendo il possibile, però io devo fare un ringraziamento ai carabinieri forestali che sono presenti sul territorio H24, per cui voglio dire anche con la loro collaborazione riusciamo ad intervenire a più punti della città. Il gruppo comunale è attivo, la Smartland è attiva sul territorio da stamattina alle 8 che sta facendo la bonifica del territorio. Purtroppo ci sono delle fumarole che poi continuano a fumeggiare, però c'è il rischio che riprendano l'incendio. La macchina dell'emergenza comunale funziona in prima linea, si attiva immediatamente? Anzi, si può dire che non si ferma mai ultimamente. Noi da ieri che abbiamo fatto un coordinamento delle associazioni, è questa grazie al sindaco che ci ha coordinato direttamente sul posto, siamo stati abbastanza efficienti e comunque siamo arrivati al punto di debellare un po' gli incendi ed evitare il peggio per gli abitanti, perché è arrivato a un certo punto dell'orario che le fiamme lampivano le abitazioni. Speriamo che non ci siano piogge in questo periodo, perché se mai ci fossero non riusciamo a calcolare i danni che potrebbero provocare. Grazie a tutti.